Riciclaggio, autoriciclaggio è falso in bilancio. La procura di Palermo insiste sulle accuse nei confronti del patron del Palermo Calcio, Maurizio Zamparini, per la gestione della società Rosa Nero negli anni dal 2013 al 2016. E adesso, nell'inchiesta, finisce anche il neopresidente Giovanni Gianmarva, il figlio dello stesso Zamparini, la sua segretaria e cinque professionisti ritenuti compiacenti. La Guardia di Finanza, su ordine dell'autorità giudiziaria, ha posto sotto sequestro i beni del Palermo Calcio per un valore complessivo di un milione di euro. Si tratta di un sequestro conservativo per equivalente, ovvero del blocco di beni per un valore pari all'importo del presunto reato commesso. Nel registro degli indagati, Gianmarva è finito con l'accusa di aver ostacolato le funzioni delle autorità di vigilanza, accusa che viene contestata anche alla segretaria di Zamparini. Secondo le nuove ipotesi accusatorie della Procura, il Palermo avrebbe ottenuto, fino al 2018, le certificazioni della Covisoc sui bilanci grazie a comunicazioni non del tutto esatte. In questo ambito rientrerebbe il ruolo del presidente Gianmarva, che avrebbe ostacolato l'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza. La richiesta della Procura comunque era molto più elevata. I PM infatti avevano chiesto il sequestro di oltre 50 milioni di euro. Secondo il commento del patron del Palermo, intervistato ai microfoni del giornale di Sicilia, la decisione della Procura metterebbe di fatto a rischio il pagamento degli stipendi al 31 maggio 2018 e l'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie B. Breve il commento invece del presidente Giovanni Gianmarva sulla questione, ci mancava anche questa, ma ho la coscienza a posto.